Il 22 settembre abbiamo richiesto formalmente agli uffici della Presidenza della Camera di avere il dettaglio di quelli che sono i costi della segreteria del Presidente Boldrini, cioè quanto spende per i vari funzionari, quanto spende per l'addetto stampa, quanto spende per tutti quelli che la seguono e soprattutto sapere quanti sono e quanto prendono i funzionari chiamati dall'esterno, sono gli amichetti o le amichette del Presidente Boldrini che si è voluta portare qui alla Camera nonostante ci siano già migliaia di dipendenti, anche preparati, capaci e bravi e ben stipendiati per fare il lavoro. Bene, dal 22 settembre non è arrivato ancora nessun tipo di risposta, di fatto la Boldrini si rifiuta di darci questi documenti. Attenderemo ancora qualche giorno, massimo una settimana, facciamo dieci giorni proprio perché la lentezza è proprio di questa istituzione di Roma, ma dopodiché ci rivolgeremo ad altre istituzioni per avere questi dati, possibilmente facendo anche una querela nei confronti di chi non fornisce quello che ai cittadini dovrebbe essere dato in tempo reale. Con una battuta, parafrasando proprio quello che aveva detto il Presidente Boldrini all'inizio del suo mandato, che aveva definito la Camera una casa di vetro con la sua gestione, io direi che l'unica casa che si vede qui è una casa chiusa, infatti la gestione qui è un vero e proprio bordello.